In questa società abbiamo partito, in questa società abbiamo partito, in questa società Futura Roma, Mario Di Germantini, in quarta Colosse 18.000 con Lorenzo Monticori, in questa scatenù di Succon, Iniziale Caraghiani, in questa sulla, Futura Roma, Stefano Di Carlo, nel settimo Corsia, con Castello Pasciani, in Partito Campinodi Palasino, in ottava Alessandro Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.